Lungaggini burocratiche che ostacolano le certificazioni degli oli DOP Terra d'Otranto. E questa l'accusa che le aziende olivicole del Salento lanciano la Camera di Commercio di Lecce. I campioni di olio, sostengono gli imprenditori, restano fermi nella sede dell'ente per troppi giorni, a volte anche una settimana, prima di essere inviati ai laboratori di analisi, che devono rilasciare l'autorizzazione al confezionamento. Dal momento in cui l'azienda fa la comunicazione di avvenuta chiusura della campagna di raccolta della DOP Terra d'Otranto, fino all'ok all'imbottigliamento, a volte passano 20 giorni, anche un mese. Le aziende non possono evadere gli ordini perché manca l'ok all'imbottigliamento. Si perdono le occasioni del miglior momento commerciale dell'anno, che è quello del Natale. Dal presidente della Camera di Commercio, Alfredo Prete, la massima collaborazione a risolvere il problema. Ma molte aziende, sottolinea, ci chiedono di inviare i campioni di olio a laboratori di analisi, che si trovano a 100 km di distanza, piuttosto che presso il laboratorio di un ente pubblico, che è la Camera di Commercio. Il Multilab si trova qui, sotto, a fianco alla Camera di Commercio, perciò sicuramente i tempi di consegna sarebbero velocissimi, e invece le aziende preferiscono far sì che la loro certificazione avvenga presso un laboratorio privato che si trova a Monopoli. Purtroppo ogni tanto è passato troppo tempo nella consegna, e questo sicuramente è una nostra pecca alla quale stiamo immediatamente facendo fronte.